Un concerto a cura dell'Orchestra Filarmonica Pugliese ad intervallare la lezione dei docenti dell'Università degli Studi di Bari, Raffaella Cassano e Maria Silvestri. Archeo Canusium è il format ideato e promosso dalla Fondazione Archeologica Canusina, che porta la musica direttamente sui luoghi dell'antica città, quelli che oggi sono siti interessati da campagne di scavo, come il sagrato antistante la Chiesa Rupestre di Santa Maria di Costantinopoli, nell'area archeologica di Pietra Caduta. I ricercatori dell'Uniba sono al lavoro dalla scorsa primavera, con indagini che dureranno in totale tre anni e che hanno già condotto ad importanti ritrovamenti di alcune nuove tombe e corredi funerari. Siamo felicissimi di presentare i lavori del primo anno di scavo qui a Pietra Caduta nella Chiesa di Costantinopoli. È un lavoro di squadra fatto dalla Chiesa, dalla sovredendenza archeologica che ci ha dato il permesso, dall'Università degli Studi di Bari e dal liceo classico Fermi che ha partecipato agli scavi. Siamo lieti di presentare non solo i risultati che sono eccezionalmente importanti sotto il profilo scientifico, ma di farlo grazie anche all'Orchestra Filarmonica Pugliese, che darà un momento di bellezza, di leggerezza e di piacevolezza a questo momento così importante per la nostra comunità. Un evento questo che celebra la ripresa delle attività di scavo nella vasta area cimiteriale dopo sette anni dalla precedente campagna archeologica.